Studiamo le soluzioni dell'equazione del moto di un punto che si muove su una guida rettilinea, soggetto soltanto all'azione di una forza elastica di dichiamo, cioè studiamo le soluzioni dell'equazione differenziale dell'oscillatore armonico semplice. L'equazione caratteristica associata è λ² più ω² uguale a 0, le cui radici sono complesse coniugate. Quindi tutte le soluzioni si possono scrivere in questa forma. Si tratta di una combinazione lineare di funzioni periodiche con lo stesso periodo. Questa caratteristica permette di riscrivere l'integrale generale in una forma molto più utile per le applicazioni. Per vederlo è necessario qualche passaggio che utilizza la trigonometria. Moltiplichiamo e dividiamo l'integrale generale per la quantità a. Osserviamo ora che questi due numeri hanno la proprietà che la somma dei loro quadrati fa 1. Perciò questi numeri si possono rileggere come seno e coseno di un certo angolo φ. Possiamo quindi riscrivere y in questo modo. Ricordando infine la formula trigonometrica per il seno della somma di due angoli, la soluzione generale si può riscrivere come y di t uguale a seno di ωt più φ, dove le due costanti a e φ prendono il nome rispettivamente di ampiezza e fase. Ampiezza e fase possono essere determinate assegnando posizione e velocità iniziali del punto, oppure a partire da c1 e c2. L'integrale generale scritto in termini di a e φ mostra esplicitamente che le soluzioni dell'oscillatore armonico semplice sono funzioni periodiche del tempo, con periodo t e frequenza f. Il parametro ω, che caratterizza l'oscillatore, si chiama pulsazione. Il punto compie infinite oscillazioni di uguale ampiezza intorno alla posizione di equilibrio. Abbiamo visto che l'integrale generale del moto armonico semplice è y di t uguale a seno di ωt più φ. Vediamo com'è fatta questa funzione. La funzione dipende da tre costanti, a, ω e φ, ma hanno diversa natura. In particolare, a e φ dipendono dalle condizioni iniziali del problema, mentre ω dipende dal problema fisico stesso. Scegliamo tre valori di queste costanti, ad esempio a uguale a 1, φ uguale a 0 e ω uguale a 1. Quello che otteniamo è il seno di t. È questa funzione, che rappresenta per esempio la legge oraria di un punto materiale che si muove sotto il richiamo di una molla in assenza d'attrito. osserviamo, infatti, che il punto materiale oscilla attorno alla posizione di equilibrio y uguale a 0. Qui, la costante A rappresenta l'ampiezza massima dell'oscillazione del punto materiale. φ dipende dalla sua posizione di partenza, mentre ω dipende dalla massa del punto e dalla costante elastica della molla. cosa succede se aumentiamo il valore di A dell'ampiezza? Quello che succede è che l'ampiezza della funzione aumenta, cioè la distanza tra i massimi e i minimi aumenta. Allo stesso modo, se diminuiamo, l'ampiezza della funzione diminuisce, cioè la distanza tra i massimi e i minimi diminuisce fino a 0. Riportiamola a 1. Che cosa succede, invece, se modifichiamo i valori di φ? Se prendiamo valori di φ positivi, il grafico della funzione traslerà indietro. Se invece prendiamo valori negativi di φ, il grafico della funzione traslerà in avanti. Cosa succede se, invece, modifichiamo ω, cioè la pulsazione? Ad esempio, se raddoppiamo ω, quello che succede è che la frequenza raddoppia, cioè il numero delle oscillazioni raddoppia nello stesso intervallo di tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.